Dopo dieci mesi di attesa e di disagio e avviabilità, torna alla piena fruizione il tratto di strada in corrispondenza di Fosso Canale, in contrada San Giovanni a Roseto degli Abruzzi, in una zona strategica poiché a ridosso dello svincolo della A14. Quasi raddoppiata la larghezza della carreggiata, inserimento del passaggio pedonale, interventi antisismici. Dopo tanti mesi torna nella piena fruizione, dopo tanti anni diventa veramente un ponte sicuro, una grande opera d'arte architettonica e anche a livello di sicurezza stradale. C'è un allargamento che permetterà il passaggio in sicurezza anche nei mezzi pesanti, c'è l'allargamento anche della sede stradale con la parte pedonale che permetterà ai ciclisti e pedoni di attraversare questo ponte di passaggio tra frazioni, tra San Giovanni e Santa Lucia, in sicurezza e soprattutto un ingresso della città sia a livello turistico che a livello lavorativo, che merita Roseto degli Abruzzi, all'uscita dell'autostrada A14. Insomma, una grande opera, alcuni disagi negli ultimi mesi, ma un lavoro di squadra tra la ditta, Coggi, con l'ANAS, ringraziamento particolare va all'ingegner Davide Ricci, direttore dei lavori, all'ingegner Marasco, capo di partimento, che ha coordinato al meglio ogni opera e a tutti gli attori che hanno contribuito in questi anni. I lavori ammontano a circa 800 mila euro e si sarebbero potuti concludere prima se si fosse potuto abbattere e ricostruire il ponte ex novo, anziché lavorare su una struttura esistente, cosa non fattibile perché sarebbe mancato un collegamento cruciale che si è sviluppato col senso alternato. È stato fatto un lavoro di adeguamento sismico, pertanto è stato fatto un allargamento svingolando completamente dalla struttura attualmente esistente, perciò non è vincolato alla vecchia struttura a mattoni che è realizzata nel secolo scorso. Perciò attualmente ci sono stati fatti dei lavori anche per la sicurezza non solo stradale ma anche statica.